Ma come? Non lo sai che esistono i brevetti segreti sulla fusione fredda, sulle auto idrogeno, sui vaccini covid, addirittura brevetti coperti dal segreto militare? Come funzionano i brevetti segreti e come funzionano in generale i brevetti? Facciamo chiarezza perché è una questione interessante. Intanto cos'è un brevetto? Un brevetto è una forma legale di protezione della proprietà intellettuale. Cos'è la proprietà intellettuale? È tutto ciò che scaturisce dalla creatività umana e che rappresenta un bene da proteggere in modo che nessuno possa copiare, per un certo periodo di tempo, di quella idea. Come funzionano i brevetti? Quando un inventore crea qualcosa di nuovo o pensa di aver creato qualcosa di nuovo, fa una domanda all'ufficio brevetti del proprio paese o di altri paesi dove eventualmente vuole estendere il brevetto oppure ad esempio nell'Unione Europea esiste un ufficio brevetti comunitario, quindi si può fare domanda all'ufficio brevetti europeo e quindi avere una protezione per tutti i paesi dell'Unione Europea e in questa domanda bisogna specificare in modo molto dettagliato come è fatta questa scoperta. Facciamo un esempio, ho inventato un nuovo tipo di schiaccianoci alla domanda di brevetto allegrò tutti i disegni tecnici che riguardano questo schiaccianoci, quindi come è fatto le diverse parti, la modalità di funzionamento, quindi la descrizione precisa accurata dell'invenzione in modo che si capisca come è fatta, come funziona e come si costruisce e i possibili usi che io prevedo di brevettare per quell'invenzione lì. Quindi se io ho inventato uno schiaccianoci potrò scrivere questo schiaccianoci, questa invenzione serve a aprire il guscio delle noci. Poi ovviamente se voglio estendere questo brevetto e in genere si fa perché una volta che si fa un brevetto si cerca di prevedere più utilizzi possibili, scriverò anche che magari potrà essere usato per rompere tutti i gusci dei semi duri, quindi se farò un elenco, una lista, i semi di mandorla, i semi di nocciole eccetera eccetera eccetera. Giusto per fare un esempio. Una volta inviata questa domanda che è come potete capire già di per sé una cosa abbastanza impegnativa, complessa. Ci sono professionalità, professionisti che di lavoro fanno proprio quello, cioè aiutano gli inventori a elaborare una domanda di brevetto. I tecnici personale dell'ufficio brevetti analizza questa domanda, analizza tutti i documenti che vengono presentati e valuta sostanzialmente due cose. La prima è se e quanto questa invenzione è nuova, cioè rispetto a tutti gli altri brevetti che sono stati concessi fino a quel momento, che sono nel database, questo schiaccianoci che io ho inventato e che voglio brevettare, quanto è nuovo il funzionamento, ha lo stesso funzionamento di altre cose che sono già nel database, che sono già brevettate, ha delle parti che sono diverse. Quanto è diverso? Ora non entriamo nel merito di quanto un'invenzione è diverso dall'altra a livello brevettuale perché è un argomento complicatissimo, di cui io stesso non sono esperto e che su cui gli avvocati e gli esperti di brevetti insomma lavorano 24 ore su 24, ma il concetto è che per essere brevettata un'invenzione deve essere nuova rispetto alle cose precedenti. Se la domanda è ben fatta, si capisce come è fatta l'invenzione e diciamo che va tutto bene, l'invenzione è effettivamente considerata nuova, mi viene concesso un brevetto e nel momento in cui viene concesso un brevetto si apre praticamente un contratto, cioè il brevetto non è altro che una forma di contratto con la quale l'inventore gode di una protezione e cioè di un monopolio. Nessuno per un periodo definito, che in genere è di 10, 18, 20 anni a seconda dell'invenzione del paese eccetera, nessuno può copiare questa invenzione. Nessuno la può rifare uguale, solo io la posso fare, eventualmente se qualcuno vuole appropriarsi di questa invenzione, di questa tecnologia così come io l'ho descritta, deve mettersi d'accordo con me, pagarmi una licenza. Il brevetto è un bene che io possiedo nel momento in cui mi viene concesso il brevetto, come inventore io possiedo questo bene e quindi ne dispongo, posso darlo in licenza, posso cederne i diritti eccetera eccetera per la durata del brevetto, che ogni anno io poi tra l'altro dovrò rinnovare spendendo comunque dei soldi, ma questo è un altro discorso. D'altra parte però io come inventore mi impegno, mi sono già impegnato in realtà a rendere pubblica questa invenzione. Nel momento in cui io presento la domanda all'ufficio brevetti e quindi descrivo in modo dettagliato la mia invenzione, accetto che questa invenzione venga resa pubblica nei suoi dettagli. Io ho brevettato quello schiaccianoci lì, quello schiaccianoci è pubblicato così com'è, chiunque può andare all'ufficio brevetti o sul sito internet dell'ufficio brevetti o in qualunque database di brevetti che esiste nel mondo, ne esistono tantissimi, esiste perfino google patents, google brevetti lo trovate su internet dove potete cercare tutte le cose che sono state brevettate. Dal momento in cui io ho brevettato, ho avuto un brevetto, accetto che i dettagli della mia invenzione vengano resi pubblici. Quindi l'idea stessa di brevetto è contraria alla segretezza. Nella sua forma proprio di concezione il brevetto è il contrario della segretezza. Se io ottengo un brevetto significa che quell'invenzione non è segreta perché sta in un database, è descritta nei dettagli, tutti la possono vedere e teoricamente tutti la potrebbero rifare uguale, tutti la potrebbero copiare ma non lo possono fare legalmente. Sembra un controsenso? In realtà non è un controsenso se uno ci pensa perché io godo di una protezione di quel brevetto lì proprio perché l'ho descritto nei dettagli, ho spiegato esattamente come funziona e finché quel brevetto è valido tu non potrai rifarlo come io l'ho descritta. Quindi questa è la forma di protezione classica che esiste da secoli e il primo brevetto, pensate secondo almeno diciamo la maggior parte delle fonti, venne concesso nel 1421 niente di meno che a Filippo Brunelleschi, l'architetto che creò tra le varie cose anche la cupola del Duomo di Firenze per un'invenzione, una sua invenzione che era un barcone che si chiamava il Badalone, era un barcone che serviva a trasportare i materiali di costruzione della cupola che lui Brunelleschi creò ex novo e questa invenzione del Badalone ottenne la protezione della città di Firenze che concesse un monopolio di pari di tre o quattro anni durante il quale nessuno poteva costruire una barca come quella che aveva inventato Brunelleschi proprio per dare un incentivo, una protezione ad un'invenzione sulla quale erano investite delle risorse. Questo è il principio della protezione brevettuale, cioè io do un incentivo a chi investe delle risorse del tempo e dell'inventiva, a volte delle risorse molto importanti, parliamo di milioni o di miliardi di euro su una tecnologia, su un'invenzione perché è chiaro che se io investo un sacco di risorse su qualcosa che poi dopo può essere copiata dal primo che passa non ho più nessun incentivo a investire delle risorse in qualcosa di nuovo. Questa almeno è l'idea che sta alla base dei brevetti che appunto in varie forme esistono da secoli e c'è un motivo per cui finora questo istituto, questa cosa del brevetto si è diffusa in tutto il mondo in realtà ed è la principale forma di protezione della proprietà intellettuale che oggi si usa a livello globale. Se ti piace questo video e ti interessa iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Per te non fa grande differenza ma in realtà per me sì perché più gente si iscrive ad un canale più gente attiva la campanella delle notifiche e più gli algoritmi di YouTube favoriscono la diffusione di questi contenuti e quindi farete un favore non solo a me ma anche a tutti quelli che eventualmente possono vedere questi contenuti. Quindi è un piccolo gesto da parte vostra che però fa una grande differenza. Se poi il video e il canale vi piacciono così tanto potete anche sostenere economicamente con una piccola donazione i contenuti di questo video e in descrizione trovate il link per fare una piccola donazione visto che questi contenuti sono gratis e disponibili a tutti che mi aiuterà a produrre e a sostenere le spese di produzione di questi video. La cosa importante è che il brevetto è l'esatto contrario della segretezza. Se io voglio che un'invenzione rimanga segreta l'ultima cosa che devo fare è ovviamente cercare di brevettarla perché nel momento in cui mi viene concesso un brevetto l'invenzione viene descritta dettagliatamente in un atto pubblico e quindi i dettagli di questa invenzione intanto il fatto che esista ma non solo proprio i dettagli dell'invenzione di come è fatta sono disponibili a tutti. Questo vale per qualsiasi tipo di invenzione che si parli dello schiaccianoci o che si parli di motori di aerei o che si parli di invenzioni biotecnologiche come un farmaco o un vaccino. Il brevetto segreto è un po' come dire un matrimonio segreto oppure una sentenza di tribunale segreta. Sono atti pubblici. Se io voglio sapere le sentenze che sono state emesse fino a oggi vado in tribunale, vado al casellare giudiziario e ottengo tutta la lista delle sentenze. Se io voglio sapere chi si è sposato nel mio comune vado in comune e c'è la lista dei matrimoni non posso tenerla nascosta perché è un atto pubblico. Quindi l'inventore ha una certa garanzia di segretezza diciamo di riservatezza nel momento in cui viene presentato la domanda di brevetto. Anche lì c'è tutta una regolamentazione, una legislazione, si ha diritto ad una forma di riservatezza per un certo periodo durante il quale la domanda è in corso di esame. Ma una volta che la domanda di brevetto viene accettata e il brevetto viene concesso la segretezza viene meno. Questo lo dico perché sento molti che scrivono o parlano di brevetti segreti senza in realtà avere secondo me idea di che cosa stanno dicendo. E se io volessi non far conoscere a nessuno, fa sparire una tecnologia, un'invenzione, avessi un sacco di soldi posso comprare il brevetto e farlo sparire? Perché questa è un'altra cosa che spesso si dice no? C'era questa invenzione, questo brevetto è stato comprato da Tizio e Caio e l'hanno fatto sparire. No, non si può fare per il motivo che abbiamo visto finora. Cioè una volta che esiste un brevetto, questo brevetto sta lì, è pubblicato, sta nei database per sempre. Io posso ovviamente acquistare la licenza di un brevetto e si fa continuamente, ma quel brevetto rimarrà lì pubblicato, non posso cancellarlo. Quindi ho acquistato la licenza di un brevetto ma non acquisto un brevetto per fare sparire quell'invenzione. Al limite posso acquistare la licenza esclusiva di un brevetto per qualche strano motivo, voglio spendere un sacco di soldi e fare in modo che quella roba rimanga lì nei cassetti. Acquisto la licenza di un brevetto e poi non produco l'oggetto che ho brevettato. Ma non posso fare sparire la conoscenza di quel brevetto. Quindi se esiste, facciamo l'esempio, il brevetto di una macchina a idrogeno che fa 100.000 chilometri con una ricarica, quel brevetto rimane lì e quindi cosa significa? Che io posso anche acquistarlo, spendere un sacco di soldi e non produrlo, ma arriverà qualcuno che partendo da quell'invenzione troverà una piccola variante di quella invenzione lì e la brevetterà a sua volta e l'ufficio brevetti gli darà un brevetto per fare quella roba. Quindi io dovrei continuamente acquistare questo tipo di invenzione, avere un portafoglio enorme di queste invenzioni, sperare che nessuno la migliori e ne brevetti una variante e sperare anche che i governi, l'ufficio brevetti non se ne accorga e ovviamente se ne accorgono perché è tutto pubblico e nessuno se ne accorga e questa cosa rimanga un segreto fra dieci persone. Capite che è una cosa che non è proprio possibile. Detto questo, esiste un qualche modo per tenere segreta un'invenzione per non farla conoscere a nessuno? In realtà sì. Ci sono due modi in realtà per rendere segreta una tecnologia. La prima è non brevettarla e quindi ricorrere ad un'altra forma di protezione della proprietà intellettuale che conosciamo tutti, che è il cosiddetto segreto industriale o segreto commerciale, quello che in inglese si chiama trade secret. Il segreto industriale consiste nel fatto che io tengo delle informazioni sotto chiave, le tengo riservate, le condivido solo con le persone che devono, che possono sapere di quella cosa, faccio firmare a tutti una dichiarazione di non disclosure, non disclosure agreement, cioè una dichiarazione dove si impegnano a non divulgare questi dati e cerco di tenere questa informazione il più segreta possibile. Ovviamente non brevetterò quella cosa perché nel momento in cui la brevetto so già che se ottengo il brevetto quell'informazione diventerà pubblica. Quindi di nuovo brevetto, segreto, due cose antitetiche. L'esempio più classico del segreto industriale è quello della formula della coca cola che notoriamente è segreta e se uno va a cercare i brevetti della coca cola company nei vari database non troverà la formula della bevanda della coca cola perché quella è segreta, non vogliono farla sapere a nessuno, hanno una loro formula che Terran tengono come segreto industriale. Io non so, non sono in grado di sapere quanto in realtà questa cosa sia segreta o sia un segreto di pulcinelle quanto invece contino il marchio, conti tutto quello che c'è intorno, però se andate nei database in realtà trovate un sacco di brevetti della coca cola company che riguardano ad esempio i sistemi di produzione, le macchine che servono a imbottigliare per esempio i tappi, le bottiglie, la forma della bottiglia, tutte le bottiglie nel corso della storia da quelle classiche a quelle più moderne della coca cola sono tutte brevettate perché quella si vede la forma della bottiglia è evidente non può essere tenuta segreta e quindi la brevetto per avere una protezione. Il problema del segreto industriale è che è facile capirlo, è protetto, è un segreto finché non è più un segreto. Facciamo un esempio se io, stupido, ma per capire se un direttore della coca cola va in giro con la valigetta dove dentro c'è la formula della coca cola e la perde sul treno e qualcuno la trova, la valigetta è aperta e a quel punto quella informazione diventa pubblica. Io la trovo e non l'ho rubata, l'ho trovata. Quindi la disclosure, la rivelazione di questo segreto non è stata carpita con lo spionaggio, con l'inganno, con il cyber spionaggio che sono reati e il segreto industriale in questi casi è tutelato dalla legge. No, il detentore del segreto l'ha rilasciato così involontariamente, volontariamente o meno in giro e quindi a quel punto quella roba lì non è più segreta. Chiunque da quel momento può rifare la coca cola e la coca cola non ha più nessuna protezione intellettuale. Caso meno teorico e più invece frequente, la cosiddetta ingegneria inversa. Io posso prendere la coca cola o qualunque altra invenzione, cercare di analizzarla nel caso di un composto di una bevanda come la coca cola o di un farmaco o di qualsiasi altro composto chimico. Posso analizzarlo nei dettagli e con le tecnologie che ci sono oggi potrei anche avere la lista veramente dettagliata degli ingredienti e della dose di questi ingredienti e rifarmelo. E a quel punto se io faccio ingegneria inversa su un prodotto che non è brevettato io sono assolutamente libero di produrlo perché di nuovo non ho rubato il segreto a qualcuno ma ho preso qualcosa che stava lì e che era a disposizione di tutti. Quindi vedete pro e contro della segretezza rispetto al brevetto. Una dei segreti industriali più classici per esempio riguarda la lista dei fornitori che perché è importante lo sa anche un piccolo artigiano, un piccolo industriale che quando si fa molta fatica a trovare quello che ti fabbrica quel bullone con quelle specifiche a quel determinato prezzo bla 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 magari ci ha dovuto passare un sacco di tempo a trovarlo in giro per il mondo non lo vai a raccontare alla tua concorrenza. La stessa invenzione, lo stessa cosa può essere protetta da un segreto industriale che riguarda le fasi della sua produzione, la sua realizzazione specifica ma allo stesso tempo essere protetta da un brevetto per cui l'invenzione è pubblica. Di nuovo sono due cose diverse, antitetiche. Se io voglio tenere un segreto industriale quella cosa non la brevetto di sicuro perché brevettandola tolgo la possibilità di segreto. Detto questo esistono delle invenzioni per cui è stato chiesto il brevetto e vengono tolte, vengono nascoste? In realtà esistono. È un caso molto particolare che riguarda credo in particolare gli Stati Uniti, non so se esista la stessa legislazione in altri paesi credo comunque che in genere sia diffusa un po' in vari paesi e negli Stati Uniti esiste il cosiddetto Patent Secrecy Act cioè la legge di segretezza sui brevetti. Funziona così, nel momento in cui qualcuno un inventore presenta una domanda di brevetto all'ufficio brevetti, in questo caso all'ufficio brevetti statunitense, uno dei tanti controlli che viene fatto è la natura di quella invenzione e se quella invenzione può costituire una tecnologia di rischio militare o interesse nazionale. Si tratta ovviamente soprattutto di tecnologie che riguardano l'ambito militare, quindi se io faccio un nuovo tipo di razzo o un nuovo tipo di encrypting cioè di sistema di criptatura delle informazioni o tutto quello che in realtà può essere riconducibile all'utilizzo militare o duale, ecco lì il governo degli Stati Uniti, alcune agenzie del governo degli Stati Uniti si riservano la possibilità di interrompere, intervenire quindi nel processo di brevetto. All'inventore in quel caso non viene concesso il brevetto in modo che quel brevetto non diventi pubblico e quella quella invenzione lì viene praticamente congelata e viene inserita in un in un elenco di invenzioni classificate e che quindi magari solo dopo qualche anno può essere in realtà soggetta a brevetto e quindi a pubblicazione. Questa possibilità c'è, esiste, viene applicata, ripeto, soprattutto per invenzioni che riguardano l'ambito militare o della sicurezza nazionale, viene applicata in realtà meno dell'1%, meno dell'1% dei brevetti che vengono richiesti e presentati in realtà va per quella strada lì. È ovviamente una cosa che è appannaggio dei governi, del governo, delle agenzie governative, non certo dei privati ed è secondo me anche abbastanza improprio parlare di brevetto segreto, anche se nella terminologia si parla di secret patent, di brevetti segreti. In realtà il brevetto lì non c'è, nel senso che è un'intrusione del governo nel processo di concessione del brevetto, il governo vede che c'è quella domanda di brevetto che può essere importante per la sicurezza nazionale, militare eccetera, decide di intervenire e il brevetto non viene pubblicato, non viene concesso. Quindi non è in realtà un vero brevetto se poi dopo qualche anno, come spesso succede, l'invenzione viene declassificata, il brevetto viene pubblicato e l'inventore può concederlo in licenza eccetera. Come potete capire questa è una cosa molto molto particolare che fa anche discutere molto, a quanto capisco io, gli esperti di proprietà intellettuale perché comunque è un'ingerenza importante dello Stato in affari che sono privati. Se io invento qualcosa che può avere un beneficio economico per l'inventore, insomma si devono prevedere anche delle compensazioni che credo ci siano, insomma è un argomento complicato ma è giusto per farvi capire che esiste questa possibilità ma è veramente limitata ad alcune cose. E delle tante cose che si sono sentite dire sui vaccini del Covid ad esempio era che appunto i brevetti sui vaccini erano stati oggetto di questo tipo di segretezza militare quindi nessuno li sapeva, conosceva i dettagli, diteci i dettagli dei vaccini, fateci vedere il brevetto eccetera eccetera. È vera questa cosa? No, non è vera per un semplice motivo e chiunque può andare su internet, io l'ho fatto e l'ho fatto vedere in tantissime mie conferenze online ma potete farlo anche voi andate su Google Patents e cercate vaccini Covid, mRNA eccetera eccetera e troverete una sfilza di brevetti dove viene descritta in modo dettagliato l'invenzione quindi il vaccino e questo per esempio è uno dei tanti brevetti di Moderna, dell'azienda che ha prodotto uno dei vaccini RNA e guardate un po' c'è anche la famosa sequenza dell'RNA del vaccino, quella che nessuno ci vuole far conoscere, quella che non ce la dicono sta lì, sta lì nel brevetto, se andate su internet la trovate ed è brevettata, quindi di nuovo se io un brevetto lo trovo ed è pubblico non è per definizione un brevetto segreto, nessuno lo può a questo punto acquistare per nasconderlo al mondo, sta lì, sta lì e starà lì per sempre poi dopo vorrei anche vedere molti di quelli che commentano dateci i dettagli, dateci la formula dateci questo, una volta che leggono e vedono quei dettagli lì, sono sicuro che non ci capiscono niente lo stesso perché non hanno la minima competenza per capirci niente, però chi vuole se può andare tranquillamente a vedere, se vi cambia qualcosa non sono segreti stanno lì, cervello sempre acceso dentro la scatola cranica e alla prossima.